Professore ordinario di analisi numerica con chiamata diretta per chiara fama presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria. Membro del Consiglio Internazionale dell'Università e associato di ricerca con l'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni. Una tra le sue ricerche in prima linea permette di eseguire calcoli con i numeri infiniti e infinitesimi trattandoli come numeri normali. Tramite l'Infinity Calculator ha reso concreto ed operativo il calcolo, dimostrando che una macchina è in grado di recepire il nuovo metodo. Premio Internazionale Città di Gioacchino da Fiore 2023 a Jaroslav Sergeyev.